Ovviamente siamo molto contenti con la nostra opzione, con gli infortunati sull'ala, anche senza Matteo Manozzi, Matteo Bellini, Leo Sarto ritornerà adesso con i Tigers. Noi pensiamo che il form di Luca Maurici era molto molto buono a questo momento, Tommy Castello è una buona, vogliamo essere, avere i nostri migliori giocatori sul campo. Il campo ha giocato tante volte sull'ala e solo perché lui inizia la partita sull'ala sono sicuro che vogliamo vedere lui con la palla in mano. Lui ha un ruolo che vogliamo, che lui è un po' libero da normale e sono molto contento di vedere Luca ancora con Tommy Castello in centri. Sì, è un'opzione che abbiamo parlato solo perché abbiamo gli infortunati come tutti gli altri, abbiamo opzioni come Tommy Benvenuti o Lucas Perendio, ma abbiamo pensato che la giusta opzione per questa partita è il campo sull'ala, vediamo anche l'opzione di Edo Padrani sull'ala. Ci sono le opzioni, infortunati, ma la giusta scelta per noi. David Cicci è arrivato in Italia due anni fa e lui ha giocato bene, con una consistenza e l'equilibrio in ogni seconda linea, l'equilibrio fra numero 4 e numero 5. Abbiamo un'altra opzione come Marco Fluser in questa posizione, anche Alizani, lui ha una piccola fortuna. Probabilmente Alizani è fit per sabato, ma è non possibile, non può prendere un rischio per lui. Per noi è un'opzione vedere una persona con la giusta qualità per essere il numero 4 del nostro futuro. Lui ha giocato tante volte in terza linea quando era giovane. per noi è una buona opzione perché lui è un buon footballer e come Michele Campagnaro sono contento. L'importante, quando tu vedi la loro squadra, la prima cinque di Edinburgh, la forma adesso di WP Nell è molto molto buona. Tullis e Gilchrist in seconda linea. Loro hanno l'abilità di essere molto forti in loro avanti, ma anche loro hanno l'abilità in i C4. Più o meno i avanti di Edinburgh e i C4 di Glasgow, ma anche Finn Russell e Greg Laidlaw. Sono una squadra con... Loro sono giusto, noi siamo meglio, ma anche sappiamo che senza il giusto livello di intensità è un livello probabilmente più dell'anno scorso contro la Scozia in Rome. Vogliamo vedere la stessa intensità che abbiamo avuto contro l'Australia durante novembre e anche contro il Giappone nel nostro secondo test quando abbiamo vinto. vediamo, è una grande sfida per questo gruppo, ma noi siamo meglio, ma vogliamo mostrare che noi siamo meglio. Vogliamo vincere perché ogni squadra voglia vincere una partita. Questo è il nostro obiettivo, ma per me i risultati, questa è la mia preoccupazione. Ho chiesto, come sempre, un livello di intensità e la volontà della nostra squadra. sono andato fuori per un cappuccino prima e ci sono tanti italiani qui, non solo per come te fossi, ma anche loro vivono qui. Vogliamo che loro sono orgogliosi della prestazione in Italia, ma anche qui. Vediamo, se noi giochiamo al nostro massimo livello vediamo il risultato. Grazie. 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 Grazie a tutti